Insomma, sempre anche esso dato fastidio, poi ha giocatori, si è visto un attimo la formazione, giocatori indubbiamente bravi e qui, anche qui, sarà Sauro Frutti, dopo che il Prato sbaglia a questo gol, sarà Sauro Frutti a portare in vantaggio in Modena, anche qui con un po' di fortuna. Stupendo. Stupendo questo, eh. E poi va sotto i nostri tifosi che erano proprio... Da quella parte là, sì, lo vediamo. Direi un gol voluto soprattutto. Sauro non stava a pensare nel senso che quando gli capitava, come ci fai caso, ha tirato al volo, l'ha svirgolata, l'ha trovata di nuovo lì sul suo destro e ha tirato subito.